La lotta alla criminalità organizzata, il contrasto allo spaccio e poi tanti casi di violenza di genere affrontati in questo anno che sta per terminare. Ma per analizzare il 2023 della questura di Frosinone si può partire da un dato, quello reso noto, da un'indagine del Sole 24 Ore che colloca la ciocciaria tra le province più sicure in Italia. Nell'indagine che è comparsa sul Sole 24 Ore la provincia di Frosinone è risultata una delle più sicure d'Italia e questo ci fa onore ma ciò è determinato anche dal rapporto sinergico che abbiamo con le altre forze di polizia, cioè dove lavoriamo sul territorio spalla a spalla, braccio a braccio e quindi questo è un risultato che noi otteniamo anche grazie al supporto dei colleghi. Sul versante della lotta al crimine i sequestri milionari hanno avuto un peso specifico. Fondamentalmente noi abbiamo tolto ossigeno alle organizzazioni criminali e l'ultimo sequestro di un milione e mezzo di euro avvenuto a Sora nei confronti di organizzazioni criminali sottolinea proprio questo perché dove leviamo beni alla criminalità organizzata noi puliamo il territorio. Il bilancio ritengo che sia positivo anche perché come dicevo le statistiche parlano sono raddoppiati quasi gli avvisi orali che abbiamo fatto, i DASPO anche quelli sportivi, i DASPO Willy nei confronti di persone che si sono comportate illegalmente all'interno dei locali e tutto questo ha portato a un risultato. Anche la ciociaria deve fare conti con quello che viene considerato una vera e propria allarme sociale, quello dei casi di violenza di genere. È un allarme che noi non sottovolutiamo perché il fenomeno è in ascesa in tutta Italia e devo dire che qui a Frosinone non dico che lo teniamo sotto controllo ma abbiamo particolare attenzione alla problematica. Il fatto sta che all'interno della questura abbiamo un'organizzazione capillare anche con uno psicologo che può essere d'aiuto alle persone e alle vittime che ne hanno bisogno. Un dato che emerge è quello che l'ammonimento del questore nei confronti dei soggetti attivi determina un crollo di eventuali successivi comportamenti violenti. Un crollo pare del 90%, cioè abbiamo verificato che le persone ammonite rispetto ai non ammoniti poi non si sono macchiate di atti simili, quindi poi hanno desistito. Quindi l'ammonimento è uno strumento eccezionale da questo punto di vista. Bisogna fare prevenzione e fare in modo che anche il soggetto attivo del reato venga ricondotto a comportamenti equilibrati e quindi si lavora anche sul soggetto attivo del reato, non soltanto su chi ha subito il reato.